Buongiorno amici telespettatori, sono Antonio De Renzo e sono qui che ho il piacere di presentarvi delle opere strepitose di Renato Mambor e Gastone Biggi. Prima di iniziare a parlare di Art Time, una galleria d'arte e non una televisione soltanto, ma una galleria d'arte che si propone di farvi conoscere gli artisti perché comunque c'è un grande lavoro dietro questi artisti, perché noi facciamo un grandissimo lavoro e di promozione culturale e di imposizione dal punto di vista del mercato, quindi delle quotazioni di mercato. Quanti di voi hanno riposto le proprie speranze in un titolo che inesorabilmente poi è crollato, vi ha fatto perdere magari dei soldi che avevate messo con sacrificio da parte. Vi voglio prendere solo le 24 ore di qualche giorno fa. La recessione scuote Wall Street, l'indice perde il 7,6%, il ciclo peggiore degli ultimi 50 anni. Quindi in questo periodo di incertezza economica è fondamentale andare ad investire i propri soldi, non su qualche titolo appunto imposto dalle vostre banche che probabilmente sono in crisi in questo momento, ma dovete investire i vostri soldi su un qualcosa che vi dà una redditività sicura. E sapete qual è questo soggetto che vi rende sicuro il vostro investimento? Le opere d'arte. Partendo da questo presupposto volevo ricordarvi il discorso che per chi mi ha già seguito qualche domenica fa, appunto voglio spiegarvi come funziona l'investimento in borsa. In borsa più è alto il fattore di rischio, tanto più è alto la redditività dell'investimento. Però questo cosa vuol dire che logicamente potreste guadagnare tantissimo, ma potreste perdere anche tantissimo. Invece nell'investimento sull'opera d'arte, quindi sull'opera d'arte contemporanea, supportata da un grande discorso culturale, da un grande discorso di promozione, più è basso il rischio, il fattore di rischio appunto, tanto più alto sarà la redditività dell'investimento stesso. Se i cameraman mi seguono la lavagnetta vorrei appunto rappresentarvi in maniera molto semplice graficamente questo discorso. Quindi facciamo un asse cartesiano, sull'asse dell'Y mettiamo il fattore rischio, il fattore rischio che indichiamo con FR. Mentre per quanto riguarda l'asse dell'X andiamo ad evidenziare la redditività dell'investimento, quindi RI. Come dicevo prima in borsa, tanto più è alto il fattore rischio, tanto più è alto sarà la redditività dell'investimento stesso. Questo discorso si annulla completamente nell'investimento in opera d'arte, perché come vi dicevo prima, tanto più è basso il fattore rischio, tanto più sarà alto la redditività dell'investimento. Per cui se noi andiamo a mettere convenzionalmente dei valori che sono così molto semplici, facciamo 100, 200, 300 e così via, possono essere 100 euro, 100 mila euro, a noi non interessa perché vogliamo capire il discorso. E mettiamo un fattore rischio 1, 2, 3 eccetera. A un fattore rischio 1 avremo un guadagno di 300, a un fattore rischio 2 avremo un guadagno di 250, ripeto poi qui il grafico non è fatto in maniera precisa, a un fattore 3 avremo un guadagno ancora minore. Quindi cosa vuol dire? Che se noi andiamo ad investire sulle opere d'arte, andiamo ad abbassare il fattore rischio. Il fattore rischio viene abbassato dall'investimento che si fa sulla promozione e culturale e della promozione in campo proprio di marketing dell'opera stessa.